Ciao ragazzi, vi racconto una cosa che mi è successa oggi e che mi ha fatto riflettere moltissimo. Allora oggi sono andato a fare colazione ad una panetteria che ha anche la possibilità di fare il cappuccino e il caffè, si chiama Wolf. Wolf, stavo qui ad Augsburg in Germania. Allora che succede? Che ovviamente qua sono lentissimi, si prendono il loro tempo. Il rapporto di velocità tra un barista italiano e uno di questi è 3 a 1. Il barista italiano fa 3 cappuccini, mentre questo riesce a farne uno solo, quindi 3 a 1 velocità. E allora ho parcheggiato a 50 metri dalla panetteria e ho cominciato a pensare, speriamo che davanti a me non ci sia nessuno, perché questi lenti, come so, mi fanno arrivare tardi al lavoro, mi fanno perdere un'ora qui. Già se ce ne avete due davanti è finita, perché due persone poi, poi qua ragazzi anche i clienti sono lenti, ah, dammi questo, ah ma qui che ci hai messo? Ah, forse lì che ci hai messo? Sono lenti tutti e due, il cliente, quello che fa il cappuccino, quello che... E quindi ragazzi, due davanti di questi vuol dire che perdi almeno un quarto d'ora. Quindi ho cominciato a pensare, speriamo, perché la panetteria apriva alle 7 e io sono andato lì alle 7 e 5. Dico speriamo che non c'è qualcuno davanti, se no sono fottuto, sono fottuto. Parcheggio e che succede? Arriva una macchina, parcheggia a fianco a me, io sono uscito, diciamo lentamente, col mio passo, esce fuori una signora di 50 anni e comincia a correre. Comincia a correre per incularmi il posto, perché alla fine è andata là e si è messa davanti a me, è arrivata prima ovviamente, perché io non mi metto a correre, a fare la gara con la signora, però ho pensato, mortacci tu, vabbè la prima cosa che ho pensato è mortacci tua, però a parte questo ho pensato, questo non è un caso. Ragazzi, qui i casi sono due, scusate il gioco di parole, voglio dire qui, le opzioni sono due, questo non è un caso e abbiamo due opzioni. Opzione numero uno, viviamo in una simulazione, una specie di Truman Show, per cui qualcuno ha sentito che io ho pensato questa cosa e ha deciso, ma adesso gli mandiamo una a rovinargli la giornata, a fargli questo pezzo, è arrivata un'attrice e quindi è semancolato il posto, quindi questa è l'opzione uno. due, due siamo troppo potenti ragazzi, attenti a quello che pensiamo, perché io l'ho pensato veramente forte, ho pensato speriamo proprio di non trovare qualche stronzo davanti a me, perché sennò è la fine e l'ho pensato così forte che questa stronza, perché questo è, si è materializzata. Quindi due opzioni, fatemi sapere voi, perché uno, simulazione, due, potenza mentale. Ditemi la vostra opinione. Mettete il like, iscrivetevi, attivate la campanella. Tanto ragazzi, lo vedete in 30, i 30 che lo vedete, 20 di questi qua magari sono iscritti, 10 non iscritti, e in quei 10 iscrivetevi. Ciao!